Gentili telespettatori, buona giornata. Il sondaggista Giovanni Diamanti dice ma letta che cos'ha da festeggiare, c'è poco da festeggiare, ma questo sondaggista, analista e fondatore dell'istituto di ricerca Utrend, sono gli stessi sondaggisti che sono stati poi chiamati per fare quei sondaggi riservati del PD. E' un istituto demoscopico abbastanza accreditato in Italia, Utrend. Il sondaggista dice quello che alla fine anch'io ieri avevo detto, i dati mostrano sicuramente una leggera inversione di tendenza rispetto alle primarie di Torino, ma a me pare, dice il sondaggista, che non ci sia tanto da festeggiare, si è superata l'asticella minima poco di più. E così spegne l'entusiasmo dei dem per le primarie di ieri a Roma e Bologna. Certo l'affluenza non è stata un flop come a Torino, ma ci sarebbe comunque dei punti critici. Intanto poi vediamo che all'interno del PD stanno praticamente dicendo che quei dati sono falsi. Poi lo vedremo in un altro video. Vedo nelle primarie dei limiti che prima non vedevo. Se il PD ha un candidato forte, è più probabile che le primarie abbiano la funzione di azzopparlo piuttosto che legittimarlo e rafforzarlo, dice l'analista in un'intervista al giorno. E poi aggiunge, le primarie, anche se fatte con candidati competitivi tra loro, vanno fatte un po' prima, non a tre mesi dal voto, perché a Bologna ci si è scontrati e non basta un appoggio formale di chi ha perso per ricompattarsi. E poi dice, primarie fatte così a ridosso hanno i loro rischi. Alla fine, secondo fonti del PD, a Roma hanno votato circa 45.000 persone, mentre a Bologna più o meno 27.000. E a uscirne vincenti sono Roberto Gualtieri e Matteo Lepore. La scommessa del PD è che le primarie sia uno strumento ancora efficace. Un tempo i numeri erano ben diversi. È vero che i tempi sono cambiati, ma questo livello di partecipazione potrebbe essere un campanello di allarme. Cioè per lasciar perdere. Ma avete visto che, come ai grillini, vogliono far votare la base, gli iscritti. Però sono d'accordo, sia PD e 5 Stelle, quando la base che vota dice quello che loro vogliono sentirsi dire. Se no, come con la piattaforma Rossola, delegittimano, non serve, noi non possiamo, come diceva una senatrice del Movimento 5 Stelle più di un anno fa, noi non possiamo far decidere del nostro futuro degli sconosciuti. Ma, cara senatrice 5 Stelle, quegli sconosciuti sono quelli che ti hanno dato il lavoro da 13.000 euro netti al mese. Adesso che lo puoi perdere, dici io non posso mica far decidere il mio futuro da degli sconosciuti. Ho un po' curioso. E qua, alle primarie del PD, quando poi non piace, allora vengono pilotate, programmate, deve vincere per forza Gualtieri. Ma è una consultazione della base, però a senso unico. Cioè la base deve dire quello che noi vogliamo, se no quello che dice la base a questo punto non ci interessa più. E intanto abbiamo anche dei sondaggi europei che dicono che la stessa Europa guarda a destra. La prova è che la maggior parte degli elettori del PD vive poi in una bolla perché, ad esempio, in uno studio di 27 pagine pubblicato pochi giorni fa in Europa da un prestigioso istituto demoscopico ha sondato le idee degli elettori di 24 partiti di ogni orientamento in Francia, Germania, Regno Unito e in Italia escluso il partito comunista e il partito socialista francese e vediamo che cosa è venuto fuori. La domanda è stata che cosa deve fare il vostro paese riguardo all'immigrazione. In 23 casi la maggioranza degli interpellati ha risposto che deve fare di più per chiudere i confini. Vale per gli elettori di tutte le sigle di destra, di centro e progressiste. Cioè progressiste vuol dire di sinistra. Tranne una. Quest'anomalia europea sono gli elettori del PD. Fantastico. Cioè la sinistra europea vota per chiudere i porti. L'unica anomalia è la sinistra italiana. Unico gruppo nel quale la risposta prevalente è il mio paese deve fare di più per aprire i propri confini. Questa è veramente, veramente incredibile, veramente incredibile. Tra loro quelli convinti che in Italia debbono entrare più immigrati sono 46 su 100. Il 25% dice che le cose vanno bene così e solo il 29% auspica che si serrino meglio le frontiere. Quindi l'anomalia è solo in Italia. Come sto io, l'avevo detto anche settimana scorsa, nel mondo la sinistra alla fine è uguale alla destra. Pensano praticamente più o meno le stesse cose. Non ci sono paesi compartiti pro aperture, cioè che dicono il contrario di quella che dice la legge. La legge dice che si entra nei paesi con i documenti, non in maniera illegale, non esiste nessun partito in nessun paese europeo che dica l'opposto, tranne in Italia con il Partito Democratico. Questo vi fa capire che la nostra politica ha qualcosa che non va, c'è qualcosa che non torna, c'è un modo di pensare di una parte politica che è contro il paese stesso. È contro il paese stesso. Se non fosse così, la politica sarebbe più noiosa in Italia, perché se destra e sinistra pensassero le stesse cose non ci sarebbe tutto questo scontro politico giornaliero. Giorno e notte, giorno e notte, sabato e domenica compreso, feste comprese. Tutti i giorni ci sono dei video di persone che si scontrano su idee sulle quali non bisognerebbe scontrarsi, su delle ovvietà. Cioè in Italia ci sono persone che dicono delle ovvietà perché devono rispondere ad altre che dicono delle cose che non stanno né in cielo né in terra. Questa è la politica in Italia. Io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata. Ci vediamo al prossimo video. Arrivederci a tutti.